Il comitato dei sindaci facenti riferimento alla ASL di Lanciano Vasto Chieti ha espresso parere negativo sull'operato del direttore generale Thomas Schell. L'organismo ha motivato il provvedimento con il mancato raggiungimento degli obiettivi. Il comitato parla di una situazione di predissesto economico-finanziaria della ASL, del mancato raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza, del mancato rispetto delle norme di trasparenza, delle carenze nella manutenzione degli attuali manufatti ospedalieri come quelli di Lanciano, Vasto e Chieti e infine del depotenziamento della rete Emergenza Urgenza. Non è stato un giudizio emotivo, non è stato un giudizio preso lì per lì, ma un giudizio ragionato su tante questioni, ma soprattutto sulla medicina del territorio purtroppo che mostra tante carenze, mostra tante criticità e alle quali sembra che dalla direzione generale della ASL non si abbia la voglia o la possibilità di dare una risposta efficace e a breve termine. Sindaco, lei cosa risponde a chi sostiene che questo è un giudizio, un provvedimento da parte di alcuni primi cittadini, tutti di area centrosinistra? Guardi, torno al discorso di prima. Io faccio l'esempio di Atessa dove sono andato richiedendo la possibilità di incontrare al sindaco di Atessa Giulio Borrelli gli altri sindaci dei paesi limitrofi ed erano tutti presenti, quindi non c'erano solamente sindaci dell'area di centrosinistra e tutti parlando mi hanno detto che esistono delle grosse criticità e che erano delusi per il modo come la ASL rispondeva, anzi molte volte non rispondeva alle loro esigenze facendo sì che loro si trovassero in gravi difficoltà nei confronti dei loro concittadini.